Sono un centinaio le persone segnalate dagli agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Campobasso che si sono impegnati a controllare il territorio di competenza a contrasto di vari crimini, soprattutto di quelli relativi alla contraffazione dei marchi, dei prodotti e alla loro messa in vendita. Il periodo di riferimento è quello estivo, tra i mesi di luglio e agosto e sono oltre 1.500 i prodotti sequestrati tra orologi, occhiali, capi di abbigliamento, borse e altri accessori, tutti falsi, realizzati copiando marchi contraffacendo a volte con estrema cura ogni prodotto. Sono 14 le persone che risponderanno di tutte le violazioni legate alla loro commercializzazione. Ma non si sono gli agenti limitati all'attività di controllo del mercato degli oggetti contraffatti, ma hanno anche attivato un monitoraggio del territorio al fine di contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti, sequestrando circa 250 grammi di hashish, marijuana, cocaina ed eroina e segnalando 76 persone alle autorità giudiziarie. Un bilancio estremamente positivo, con il totale, da inizio anno di 134 soggetti a cui sono stati sequestrati oltre 4,5 kg di droga, mentre sono stati oltre 30.000 i prodotti commercializzati risultati falsificati e non affatto rispondenti alle norme.